All'angolo blu, dallo Yamabushi Team, dirò Marco Re! Marco Re, all'angolo rosso, dal Depro Team del maestro Calzonari. Luca Tagliorino! È la prima ripresa! Marco Re, all'angolo rosso, dal Depro Team del maestro Calzonari. Marco Re, all'angolo rosso, dal Depro Team del maestro Calzonari. Marco Re, all'angolo rosso, dal Depro Team del maestro Calzonari. Marco Re, all'angolo rosso, dal Depro Team del maestro Calzonari. Marco Re, all'angolo rosso, dal Depro Team del maestro Calzonari. Marco Re, all'angolo rosso, dal Depro Team del maestro Calzonari. Molto rosso, dal Depro Team del maestro Calzonari. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La prima ripresa, l'atleta all'angolo rosso, Luca Taglierino.